Ciao a tutti ragazzi sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale Sono in un background un pochino vecchio come vedete, tra l'altro con questa luce accesa e la finestra dietro che illumina Appaio illuminato da una forza spirituale, non lo so, da qualche entità aliena Comunque, ciancia alle bande, banda alle ciance Oggi vi voglio presentare, prima di prenderlo perché già veramente ho la pelle d'oca Un gioco che ho giocato da morire negli anni 80 Quindi da piccolo durante la mia infanzia, come tutti voi insomma che giocate a board game Insomma chiunque abbia iniziato a giocare ai giochi da tavolo e abbia la mia età Non solo può essere persa assolutamente E parlo di, ora con riflesso della luce, appena questi video li vedrà mia moglie mi spaccherà la testa Comunque, che sull'illuminazione ci conta molto L'Isola di Fuoco, La Maledizione di Vulcar, nuova edizione a cura della Restoration Games E portata in Italia da Asmode Italia A che io ringrazio di cuore, ovviamente per avermene fornito Si vede? Si Per avermene fornito una copia per la recensione Tra l'altro ragazzi, gioco veramente stupendo Per chiunque di voi se lo ricordasse Negli anni 80 era quel gioco dove praticamente c'era la testa Del malvagio Vulcar Che è questo Signore cattivo qua su in fondo Che sputa palle di fuoco Ed era un gioco tridimensionale Assolutamente Di interazione dove c'erano delle pedine Ogni giocatore prendeva una pedina di un colore Da muoverla appunto su questa isola di fuoco Dovevate muovervi come esploratori, archeologi Ma anche tombaroli per prendere tesori e scappare a bordo di un elicottero E il malvagio Vulcar, sempre usato da altri giocatori Poteva ruotare a 360 gradi sulla sua posizione E dalla bocca lanciare palle di fuoco Che le inserivate nel buchino in testa, se vi ricordate E questa è una versione molto 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 bella Perché a parte ristorata nella grafica Riuscirò a metterla, si Ristorata nella grafica, lo vedete Direttamente anche la confezione Che ricorda Ecco forse quella vecchia era un pochino Meno simpatica, diciamo Quella degli anni 80 Questa qui l'hanno fatta un pochino più in chiave Umoristica o almeno più accesa nei colori, nei disegni E cose del genere Ed è stato un Kickstarter da paura Perché è stato preso da questa Restoration Games Che prendono giochi vecchi degli anni 80 E ce le ripropongono ovviamente 20-30 anni dopo Cambiando anche la grafica Perché non è che hanno fatto semplicemente Una ristampa del gioco vecchio L'hanno proprio rifatto, riadattato Ovviamente ci hanno inserito carte e più cose Per renderlo un pochino più interessante Perché le meccaniche di un gioco anni 80 Non sono le meccaniche di un gioco uscito dal 2000 a oggi Ma nemmeno dal 2000 a oggi Diciamo negli ultimi Nell'ultimo decennio, mettiamola così E quindi hanno rinnovato un po', come vi dicevo Le meccaniche del gioco E rinfrescandola anche un pochino Per quanto la forma del gioco A parte qualche cosina in più Come le carte e altre piccolissime cose La forma del gioco è la stessa Uguale Quello che bisogna fare è sempre Fare più punti possibile e scappare Ed è veramente fatto molto molto bene E sono veramente contento di averlo ricevuto Quindi metto la testa sopra Ringrazio Asmoditalia Per avermi rifornito una copia per la recensione E ragazzi è un gioco che Secondo me, anche se avete quello vecchio Non vi deve mancare Perché è spettacolo Cioè, come riportare Io spero che riporteranno anche brivido Ora Hotel, no Che ci ha avuto 2500 edizioni Ma un brivido, sì Assolutamente Unboxing Allora, come vedete La scatola è bella grande Perché è rettangolare Guardate già la dimensione Rispetto alla mano È veramente molto grande Ma perché c'è tante cose Che deve contenere all'interno Tra l'altro Tre mappe separate In plastica Abbastanza leggera Poi infatti vi dirò alla fine Qualche raguaglio e accuratezza Dovete starci particolarmente attenti a questo gioco E consiglio spensierato Chiamate i vostri amici a giocarci a casa Ma portatela al giro il meno possibile Anzi Spudorato Non ce lo portate Perché veramente Sia la scatola molto bellina Che vedete colorata da paura Ricorda quello vecchio Il vecchio isola di fuoco Che il contenuto è molto fragile Quindi ragazzi Attenzione Comunque l'isola di fuoco La maledizione di Vulcar E guardate bella anche il layout Veramente fatto bene Ricordo gioco della Restoration Games E portato in Italia Da Asmode Italia Tradotto da loro Apriamo All'interno vedete Il regolamento di gioco Ragazzi sono tipo Cinque pagine Veramente Nemmeno Quattro pagine Tra l'altro Vedete come si apre Come le vecchie strisce Di fumetti di un tempo Il regolamento È veramente molto semplice C'è poca roba all'interno Come token e tutto E il setup è ancora più facile Ci sono tutti quanti I pezzi del gioco Come vedete Un pezzo dell'isola Spero si veda ragazzi Perché ancora una volta Sono solo a fare le riprese Quindi speriamo Venga tutto bene Comunque Un pezzo dell'isola Il malvaso Vulcar Che è quello Praticamente dove buttate dentro Le palle Di lava Che poi lui le butta Dalla bocca Praticamente tutto il gioco Dell'isola di fuoco Rotava intorno a questo Elementi scenici Come alberi Che poi servono Ve lo spiego Per Anche a livello di Un po' come nel flipper Per deviare le palline Che cadono Miniature dei personaggi Ponti Scale E tutto il resto Dado Che è uno soltanto Che serve soltanto Nel caso delle caverne E poi tutto il resto Palle Eccole qui Tra l'altro le sfere All'interno Che dovrete far cadere Per uccidere Uccidere Brutamente così Per buttare per terra E sdraiare Gli altri giocatori E così via Terzo Ed ultimo pezzo Componibile Della mappa di gioco Dell'isola di Vulcar Bigliettino Con le istruzioni Per come montare Il tutto Carte da gioco Che comprendono Carte personaggi Carte fotografie E altre cose Tutti quanti Carte azione Soprattutto Tutti quanti Deck Che servono per il gioco E un po' di token E cosine Che tra l'altro Sono tipo I tesori E tutti gli altri pezzi Tipo Questo qui serve Per coprire I buchi nella mappa E tutte le altre cose Che vi servono Per iniziare La vostra avventura Nell'isola di fuoco Vi faccio vedere Come funziona Per farvi Una veloce carrellata Di tutti i pezzi Che sono presenti Nel gioco Anche perché Non sono tantissimi Però L'area di gioco È particolarmente grande Come vedete qua giù E quindi ve la faccio In diverse riprese In diversi montaggi Comunque Primo fra tutti Vedete qua giù L'elicottero Che praticamente È l'unica via di fuga Dall'isola E sull'elicottero Partiranno sempre I quattro personaggi In una partita a quattro In una partita a due Ricordatevi che Ciascun giocatore Muoverà due personaggi Quindi in una partita a quattro Ciascun giocatore Si sceglie un colore E mette il suo personaggio A bordo dell'elicottero Che poi vi farò vedere Successivamente Dove scenderanno E dove potranno fuggire In quale caso Appunto a fine partita A bordo dell'elicottero Poi abbiamo qua su Il tracciato del cataclisma Che vedete Ha tre slot Uno in alto Quassù Due Qui E il terzo slot qui E il tracciato cataclisma Serve per finire la partita Ogni volta che Tutte e tre Li slot Vengono presi Da una carta cataclisma Che sarà giocata Da un giocatore Vi farò vedere Dalla sua mano Verranno scartate E automaticamente Una Di queste Palle di fuoco Qui Verrà tolta E verrà messa Nella scar Questa sezione qua su in cima Queste sono le palle di fuoco Che il Malvagio vulcar L'idolo lassù in cima Potrà utilizzare Per appunto Usato Guidato dai giocatori Per fermare O abbattere Gli altri giocatori Perché vi ricordo Che questo è un gioco Non cooperativo Ma dove ognuno gioca Per conto suo Sette dell'avventuriere E degli archeologi E vince il giocatore Che guadagna più punti A fine della partita Punti che possono essere guadagnati Ovviamente in vari modi Comunque Inizialmente ci saranno Tre palle di fuoco Quaggiù sul tracciato Che possono essere sbloccate Più una quarta Messa quaggiù Quindi il massimo Di palle di fuoco Che possono entrare in gioco Ed essere utilizzate Sono quattro In più Quaggiù Vedete un dado A sei faccia Arancione Che può essere utilizzato Per spostarsi Da una caverna All'altra Che ovviamente Sono numerate Sulla mappa di gioco Anche perché Questo gioco Non prevede Assolutamente Tiri di dado A parte quando Vi dovete spostare Come vi ho appena detto Dentro le caverne E per ultimo Ma non meno importante Il lettino qui Che si chiama Le fauci Con dentro Il penny fortunato Ovviamente Il giocatore che andrà A prendere il penny fortunato Guadagnerà molti punti A fine avventura E qua giù dentro le fauci Ci andranno tutti i tesori Che verranno persi Dai giocatori E che finiranno qua dentro Quindi tutti i token Dei tesori Che poi sono questi qui piccolini Che vedete sulla mappa Colorati Andranno persi Finiranno là dentro E potranno essere presi A fine partita Per un conteggio Appunto dai giocatori Io ragazzi Spero che si vedrà tutto Perché fidatevi Il campo di gioco È veramente molto grande Comunque vedete Qui sulla mappa di gioco Per farvi una carrellata veloce La H è l'helipad Dove voi inizierete la partita E dove la finirete E quindi per scappare via Dall'isola Dovrete sempre e comunque Andare qua giù sull'helipad E attendere appunto Che l'elicottero vi venga a prendere L'elicottero vi verrà a prendere In due situazioni particolari Che vi farò vedere alla fine O se ovviamente Il tracciato cataclisma Sarà finito Poi gli alberi Che hanno Doppia valenza Sia scenica Perché sono bellini Guardate queste palmi qui Fanno molta ambientazione Tra l'altro L'hanno riprodotto veramente bene Ah questa qui è unicamente Si vede poco Unicamente una copertura Vedete per coprire Che sotto c'è un buco E queste palmi qui Vengono utilizzate un po' Come dentro un flipper Perché immaginatevi Di poterle girare Perché con una regola Con una carta particolare Si può girare vulcan Per tirare le palle di fuoco O si possono girare Anche le palme E vedete che girandole Praticamente Hanno una parte Appunta Come in un flipper Che serve per indirizzare La palla Quando cade Quindi se la volete far cadere In un punto preciso E seguire un tracciato preciso Ricordatevi sempre Di indirizzare le palme Poi abbiamo In arancioni Che sono 6 sulla mappa Le vedete tutte intorno Alla montagna di Vulcar Le biglie tizzone Che possono essere giocate Dai giocatori Per spostarle Tirarle E farle cadere addosso A un altro giocatore Appunto a fermarle E fargli perdere carte tesoro Quassù in cima Vedete il pro di Vulcar Dove potrete lanciare Le palle rosse Che vi ho fatto vedere Precedentemente Che sono queste qua Quindi il giocatore Potrà mettere direttamente Dentro il buco Sulla testa E farle cadere Per abbattere O fermare Gli altri giocatori Avversari Tesori Token dei tesori Questi qui che vedete Che sono 36 in tutto Li vedete in vari punti E in più Rossa la gemma Che è la parte più importante Questa qua Scusate Il cuore di Vulcar Che il giocatore Che riuscirà a prendere Il cuore di Vulcar E a portarlo Via dall'isola A bordo dell'elicottero Guadagnerà La maggior parte dei punti Quindi in questo gioco Si vince Esplorando l'isola Facendo le proprie mosse Le proprie azioni Ah scusate Poi ovviamente Vedete qui ci sono i ponti Mobili Che possono essere buttati giù Dalla palla Quando cade Ed è la vera figata Del gioco forse E di là la scala Che sono Tutti e tre Due ponti Una scala Passaggi insicuri Sono passaggi dove Una volta che la pedina Si ferma lì Il vostro personaggio Finisce l'azione lì sopra Immaginatevi Quando nel caso Dovesse cadere Una palla di fuoco E colpire quel ponte Lo butterà giù Abbattendo Il vostro personaggio Quindi questa qui È la mappa Principale di gioco Completano tutto quanto Poi le carte Azione Che ora vi faccio vedere Carte azione Queste qua giù In alto Che ogni giocatore All'inizio della partita All'inizio del proprio turno Di gioco Dovrà sempre averne in mano Due Due di quelle Più una carta souvenir All'inizio del turno Poi ovviamente Le carte souvenir Che sono queste qua giù Verdi accanto Si potranno guadagnare In altri modi Durante il corso della partita Comunque La cosa più importante Sono due carte azione Per ogni giocatore All'inizio del proprio turno Dovrà sempre Averne due in mano In più E potrà giocarne ovviamente Però soltanto una Le carte azione Se ne può giocare Una per turno Quindi il giocatore La gioca E poi ne pesca un'altra Una carta souvenir E poi qui ci sono Le carte fotografia Come vedete Divise per Hanno due simboli Differenti Quindi sono divise In due gruppi E in tre colori Perché la partita Finisce quando O si arriva Alla fase 3 Del cataclisma Sul tracciato Che vi ho fatto vedere Precedentemente Quindi o si arriva Alla fase 3 E quindi arrivando Alla fase 3 L'elicottero Torna sull'helipad E i giocatori Potranno con le loro azioni Andare direttamente Sull'helipad Salire a bordo Dell'elicottero E lasciare l'isola Quindi sopravvivere Ma non vincere la partita Perché poi si farà Conteggio dei punti O se no Il primo giocatore Che riesce A prendere Tre fotografie Perché bisogna Siamo anche avventurieri Naturalisti Oltre che archeologi E tombaroli Quando un giocatore Riesce a prendere Tre foto Di colore differente Quindi magari Una gialla Di qualsiasi simbolo È il simbolo Che c'è sotto Non conta O una gialla Una rossa E una blu Quando ha tre foto Di tre colori differenti Automaticamente Anche in quel caso L'elicottero arriva Quindi l'elicottero arriva O in questo caso Delle carte Delle foto O nel caso Del tracciato cataclisma Appena l'elicottero è arrivato Tutti i giocatori Presenti in gioco Possano andare via Con la regola Che hanno Gli ultimi due turni Per svolgere le proprie azioni Perché poi A quel punto L'elicottero andrà via Ovviamente Chi rimane sull'isola Ha perso automaticamente La partita Chi va via dall'isola Ci sarà il conteggio di punti Comunque ricordatevi Foto E due carte Azione ciascun giocatore E una carta souvenir A Tra l'altro Ci sono quattro carte colorate Che riassumono Praticamente Il punteggio Finale da un lato E tutte quante Le azioni Che si possono svolgere Durante un turno Quindi queste Prima che inizi la partita Datele sempre ai giocatori Così sapranno cosa devono fare Comunque Le regole sono semplici Il primo giocatore Che si muove Decidete voi Il giocatore più giovane Oppure fate un tiro di dado Perché no C'avete il D6 E poi ci si muove In senso orario Le azioni che si possono fare Inizialmente La prima azione È sempre quella Perché ve l'ho detto L'avventura inizia E finisce Sull'helipad Quindi su questo punto qua giù Iniziando dall'helipad Come vi ho detto Ciascun giocatore All'inizio Ha due carte azione E una carta souvenir Quindi ipoteticamente Io spero si vedano bene Il suo mazzo è questo qui Le due carte Azione E una carta souvenir Che ovviamente Deve tenere coperto E soltanto lui Potrà andare a vedere Quindi non le deve mettere scoperte Avanti agli altri giocatori Come vedete Le caselle per muoversi Sono queste qui Colorate E Magari si vede poco Ora Che c'è anche Un'illuminazione Un pochino sbagliata Ci sono tesori Qua giù In più Accanto a Ogni casella Del tesoro Vedete C'è un piccolo tratteggiato rosso Tipo ce n'è uno qui Ce n'è uno qui Ce n'è uno qui Vuol dire che Quando il giocatore Tramite il suo movimento Si fermerà O passerà In una casella Con questo tracciato rosso qui Potrà prendere Automaticamente Il tesoro Che si troverà davanti Come ci si muove nel gioco Nel gioco Semplicemente si guardano Le nostre carte azione Ve ne metto una Qui accanto Si guardano le nostre carte azione Che vi danno sempre Un movimento Sempre Quindi tutte le carte azione Che prendete Vi daranno sempre Un movimento E una regola sotto Un'azione che potete fare Nel caso di questa qui Ecco già che ho fatto Erdanno Vedete Nell'azione di questa qui Ce n'è detto Muoviti di 4 Quindi inizialmente Mi muovo di 4 E faccio 1 2 3 Mi fermo qui E prendo il tesoro Automaticamente Fermandomici E ricordatevi che Almeno che la carta Non vi dica Diversamente Potete prendere Soltanto un tesoro A volta Quindi lo stesso giocatore Ne può portare Anche 10.000 Però ne può prendere Uno soltanto Quindi io ho preso il tesoro E il tesoro Lo vado a togliere E me lo metto Dalla parte mia In più mi dice Puoi raccogliere Vedete Questa carta qui dice Puoi raccogliere Tutti i tesori Dagli slot Delle caselle Tesoro Che attraversi Quando ti muovi Quindi io Finisco il mio movimento Perché era di 4 Se ci sono alcune caselle A volte dove ci sono Più di un tesoro Ne potete trovare Magari anche Due o tre Alcune caselle Ce ne hanno tre In quel caso Il giocatore Poteva prendere Tutti i tesori Che erano in quella casella Lì Ricordatevi che Prendere un tesoro Non vi chiede un'azione Ne potete prendere Quanti volete Basta che ovviamente Abbiate una carta Che vi dica Come questa Che potete prendere Tutti i tesori Che volete La carta souvenir Invece La potete utilizzare Soltanto Quando ve lo dice La carta stessa Quindi c'è scritto in fondo In questo caso Borsa per lo shopping Che è un souvenir Gioca questa carta Quando stai per perdere Uno più tesori E l'effetto È che non perdete Niente Quindi ricordatevi Che a differenza Delle carte azioni Le carte souvenir Le potete utilizzare Soltanto quando c'è scritto Sulla carta Quindi ricordatevi Che attivando Un personaggio Lo potete muovere In qualsiasi direzione Passando su queste caselle Qui marroncine Anche se c'è un albero Con la radice Che vi tappa la strada Potete passare Automaticamente oltre L'unica regola È che non potete muovervi Avanti e indietro Cioè non potete fare Che ne so Da qui Mettiamo caso lui parte Da qui Fare uno Due Tre Quattro E con la quarta azione Tornare indietro Assolutamente no Dovete sempre proseguire Verso la strada Che avete preso Non potete tornare indietro Però magari Nette uno successivo Se sono arrivato qui Posso tornare indietro Però devo seguire Sempre solo una direzione Senza poter tornare Sui miei passi Almeno che non ci sia Un cerchio Un incrocio Dove mi permette Di tornare anche Sui miei passi Ma non potete mai fare Dietro fronte Questa è l'unica regola E sulla mappa Vi ricordo che La H L'heliporto È la zona dove arriverete È la zona che userete Per scappare Per muovervi Ci sono altre carte azione Sono svariate Ad esempio c'è uno scappa Che ti fa muovere di 12 Ma non ti fa pescare Nessun tesoro C'è la carta cerca Che ti muovi di 6 Pesca una carta Souvenir Come vedete Tramite queste carte qui Azioni Potete anche Rimbigorire il vostro mazzo Dei souvenir Che tra l'altro Può avere quante carte volete Quindi se avete 5 carte souvenir In mano Le potete usare Le potete tenere tutte E usarle tutte quante E quindi Lo scopo del gioco Come detto precedentemente È quello di guadagnare punti Punti che si possono guadagnare Raccogliendo tesori Scattando fotografie E le fotografie Si scattano In queste zone Quaggiù gialle Segnate sulla mappa Vedete ci sono dei riquadrini Gialli Con il simbolo O di un teschio O di un piede Che poi sono gli stessi simboli Ad esempio Che trovate Sulle carte fotografia Vedete no? Ci sono dei simbolini sopra Voi guardate sulla mappa Quale di questi simbolini È il colore E prendete la carta relativa Si può prendere Qualsiasi cosa Basta firmarsi Sulla casella O anche oltrepassarla Quindi Vi fermate O passate sulla casella Di una fotografia La prendete Vi fermate O passate sulla casella Di un tesoro Lo prendete E ovviamente La missione vi dice Per andare via O arrivate al tracciato 3 del cataclisma Oppure Prendete Tre fotografie Di tre colori differenti Però ricordatevi Che i punti maggiori Del gioco Non per forza Dovete prendere il cuore Di vulcar Questo qua su in cima Non per forza Potete anche lasciarlo stare Però è quello Che dà più punti di tutti E di solito Il giocatore Che prende il cuore di vulcar È quello alla fin fine Che guadagna In assoluto più punti La regola del gioco Vuole anche che Se un giocatore Mettiamo caso Qui ce ne fosse Uno Viola Lo metto qua su Non ci si può fermare Col movimento Sulla stessa casella Di un altro giocatore Però nel caso A questo Avesse quattro azioni Potrebbe fare Uno Due Tre E quattro E andare oltre La casella Occupata Non va mai messa Nel conteggio Quindi se voi avete Quattro azioni Da qui Fate Contate Uno Ve lo faccio vedere Con lui Con il giallo Uno Sarebbe due Ma non la contate Quindi uno Due Tre Quattro Non ci si può mai fermare Sulla casella Con un altro giocatore Un'altra pedina Ma si passa sempre oltre Regola vuole che Passando sulla stessa casella Dove c'è già Un'altra miniatura O gli rubate Una carta tesoro E lui Scusate Un token tesoro Che sono questi qui piccolini Li vedete qua giù Se lui avesse questo tesoro Glielo rubereste Non potete scegliere voi Quale tesoro rubare Ma ve lo dovrà dare lui Di sua spontanea volontà Quindi in caso ne avesse dieci Ve ne dovrà dare uno di quelli O se no Nel caso questo giocatore Avesse con sé Il cuore di Vulcar Passandoli sopra Sarebbe possibile Rubargli il cuore Questa è l'unica regola Appunto per rubare le cose Altrimenti C'è la possibilità Non di rubare Oggetti Agli altri giocatori Ma di farglieli Direttamente perdere Quando capitano Ad esempio Queste carte qui Questa carta cosa dice Muoviti di 8 Ok Prima fate sempre Il movimento ragazzi Sempre Quindi muoviti di 8 Fai tutto Ah Non potete interrompere il movimento Non è che se ti dice Muoviti di 8 Ti puoi muoviti di 7 E fermati No 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 Il movimento lo devi fare è tutto Muoviti di 8 In qualsiasi direzione Basta non tornare Sui propri passi E lancia Una biglia tizzone Lanciare le biglie tizzone Sono queste qui Arancioni Che vedete qua su Ricordatevi Quella rossa È la palla di fuoco Che vi faccio vedere dopo Quella arancioni Sono le biglie tizzone E per tirare le biglie tizzone Potete dargli una spinta E buttarle giù E farle rotolare Ricordatevi ragazzi Che non potete darci Il biscottino Col pollice e l'indice Non vale assolutamente Evitato le regole La dovete spostare così col dito Farla rotolare E vi faccio vedere ad esempio In questo caso qui Ha colpito questo giocatore Ma il tiro era così lento Che non gli ha fatto niente Avete visto Ho tirato con poca potenza Ma nel caso fosse caduta Un po' più velocemente Vediamo se ce la faccio Ce la farò Ok vabbè Facciamo conto Ecco Tanto da buttarlo giù Come ha fatto qui Quando un giocatore Viene buttato a terra Nel turno successivo Automaticamente Nel inizio del turno Si rialza E non è successo Niente di che Però ricordatevi Che Se il giocatore Si rialza Si rialza nella casella Dove è caduto Se è caduto A cavallo Fra due caselle Si rialza nella casella Che vuole Quindi non c'è problema Se vola fuori dal tavolo Può rientrare Ma soltanto In una casella Con una caverna Questa qua O anche questa qua Vedete Ci hanno dei numeri Sono caselle con le caverne Che nel caso Il giocatore ci finisca Automaticamente Si dovrà spostare Ripendere il movimento Per andare a giro Per la mappa Nel caso invece Ci si muova volontariamente Dovrà andare a tirare Sempre il dado da 6 E gli dirà In quale caverna Sbuca Praticamente Magari entrato nella 1 Tira 3 Automaticamente Sbucherà dalla parte 3 Le caverne sono sempre Un'incognita Ti permettono di muoverti Più velocemente Sulla mappa Però a volte Magari rischi di fare Più strade Di quella dovuta Nel caso invece Dovesse cadere In un luogo imprecisato Tipo Boh Non si sa perché Finito qua su Dovrà ripartire Da una delle zone Principali del gioco Che sono segnate Sulla mappa Ai bordi Nel caso invece Finisca In un fiume Dovrà essere spostato Fino alla Foce Del fiume E messo nella casella Più vicina alla foce Che di solito ragazzi Sono sempre Marchiate In terra Dall'iconcina Di una fotografia Quindi nel caso Cadesse qui Verrà portato Fino a valle E dovrà ripartire Da lì Questo gioco Mira più che altro A fermarci Per farci perdere Punti e cose del genere Questa ad esempio Vi ho fatto vedere Era la mossa Della bigliatizzone Ma ce ne sono anche altre Nel caso invece Capitasse La carta cataclisma Vedete Vi da sempre un movimento Dopo il movimento Gira Ora vedete cosa succede E poi ci sono tutte le regole sotto Quando arriva la carta cataclisma Il giocatore che ha usato La carta cataclisma Dalla scar Vi ricordate Dalla faglia Quella sulla mappa Va a prendere All'inizio della partita L'unica palla di fuoco E la va a mettere qua dentro Per vedere dove cadrà Però avete visto Sulla carta C'era anche il simbolino Di una mano Che ruota Questo cosa vuol dire Che potete ruotare Una sola cosa O una palma Ok Potete ruotare una palma Come la volete Ricordatevi La regola del flipper Che dà la direzione Per dove cade La biglia rossa Se volete indirizzarla Se no Potete girare Il malvagio vulcar Qua su in cima Quindi col vostro movimento Potreste ruotarlo Per fargli tirare la palla In altre direzioni Vi faccio un esempio Se la mettessi qui A parte non per forza La lancerà davanti Ci sono più probabilità Ma la potrebbe lanciare Anche di lato Comunque il giocatore Andrà a mettere la biglia La palla di fuoco dentro E la farà cadere E vediamo dove va a finire Vedete intanto Ha buttato già giù i ponti Perché come vi ho detto All'inizio della partita Come funzionano Questi camminamenti impervi Se una miniatura Durante il suo movimento Finisce su un ponte O sulle scale Che ci sono qua giù Automaticamente Finisce il suo turno Lì sopra Anche se ha ancora Movimenti per uscire Per andare da altre parti Anche se lo inizia da qui E avesse 10 mosse Uno Si deve fermare automaticamente qui Per dare la possibilità Appunto che succedano Questi imprevisti E cose del genere O lo stesso da quest'altra parte Invece Sulle scale qua giù Mettiamo caso Il giocatore Che abbia usato il cataclisma Volesse lanciare La palla invece Da questa parte di qua La metterà qua dentro E la farà cadere E avete visto In questo caso Avrei buttato giù Il giocatore Che era sopra la scala Che tra l'altro Cadendo fino in fondo Non è finito Dentro il fiume Tanto cambia poco Non è finito Dentro il fiume Però è caduto qua Quindi rialzandosi Nettuno successivo Ne dovrà fare di scalata Prima di ritornare Dal malvagio vulcar A provare a prendere Il suo cuore Queste sono tutte quante Le regole ragazzi Ricordatevi che ogni volta Che utilizzate Una carta cataclisma Una di queste qui Ogni volta che la utilizzate Dovete automaticamente Scartarla E la mettete Nel tracciato cataclisma Ogni tre carte cataclisma Si va allo step successivo Che sono tre Quindi uno Due Tre Le prime tre Si va al due Le seconde tre Si va al tre Quando il tracciato cataclisma Arriva a fine Non solo il giocatore Che userà il malvagio vulcar Potrà tirare molte Più palle di fuoco Due tre E addirittura anche quattro Una dopo l'altra Potrà fare veramente Una strage di giocatori Ma soprattutto La cosa più importante Arrivati a fine del tracciato Del cataclisma Arriverà all'elicottero Quindi a fine tracciato Cataclisma O quando tutte e tre Le carte fotografia Saranno prese Che vi ricordo Sono una cosa del genere Segnate da un simbolino Sulla mappa Altre regole ragazzi Vogliono Che ovviamente Quando un giocatore Viene colpito Da una di queste biglie Quaggiù O dalla palla di fuoco Quando viene colpito E buttato in terra Quindi se non viene sdraiato No Ma ogni volta Che viene sdraiato Deve prendere un suo tesoro E buttarlo direttamente Nella pila degli scarti Che se vi ricordate Erano le fauci Ovvero questa scatoletta Quaggiù in fondo Quando un giocatore Viene colpito Da una palla di fuoco O da una di quell'altra L'altra biglie arancioni Scarta un tesoro E lo mette qua giù in fondo Questa scatolina qui Si potrà riutilizzare Alla fine della partita Per prendere altri tesori E per conteggi vari Quindi I movimenti che si possono fare Sono sempre Carta Con il movimento Che ci è segnato sopra Con l'azione Dovete farlo tutto Con l'azione Che ci è segnata sopra Usare le caverne Per spostarsi più velocemente Fermarsi sui ballatoi O sulle scale L'azione vostra Finisce lì Raccogliere i tesori Oppure Scavalcare Un altro giocatore Tutte le volte Che andrete a scavalcare Un altro giocatore Li potrete rubare O un tesoro Dalla mano O direttamente Il cuore di Volkar Arrivati a fine della partita Come vi ho detto all'inizio C'è un riassunto Qua dietro Di tutti i punteggi Che potete fare Per il cuore Per tutto il resto Per le fotografie E ricordatevi che A seconda di quanti tesori Avete di un certo simbolo E colore Prenderete dei punteggi Che ne so Ne avete due rossi Tre punti Ne avete quattro gialli Dieci punti Fate tutto un conteggio Per i punti che avete preso E il giocatore Che ha più punti Ha vinto la partita Quindi ragazzi Il senso del gioco È tutto questo Avvicinarsi il più possibile A prendere il cuore Ma non per forza Arrivare almeno Alla fase 3 Del cataclisma Arrivare almeno Ad avere tre foto Differenti di ciascun colore Cioè una foto di ciascun colore Tre foto in tutto Aspettare che arrivi L'elicottero Perché poi ritornerà L'elicottero Nella location di partenza Salire sull'elicottero Andare via E fare il conteggio Di punti Quando arriva l'elicottero Ci sono ancora Due turni Che possono essere giocati I giocatori Che sono all'interno Dell'elicottero Non possono più Ovviamente muoversi Però se hanno carte in mano Possono continuare a giocarle Per cercare di bloccare La strada Agli altri giocatori I giocatori Che dovranno fare la corsa Con le loro azioni Per arrivare fino all'elicottero E questi ragazzi Sono tutte quante Le regole del gioco Che ve lo spiegate velocemente Vabbè ma l'isola di fuoco È un gioco talmente vecchio E ormai penso Lo conosca chiunque Che si spiega veramente da solo Veramente bellino e veloce Lo tengo qui davanti Che almeno si vede leggermente più Ragazzi scusate con le riprese Ma sono tornato giù in camera Perché su A parte che non c'è mia moglie In questo periodo Perché è giù dai genitori a Viterbo E fa le delle riprese da solo È un bel casino Tra l'altro Mosso dal ventilatore dietro Che non spengo Da tre mesi Della luce rido E su E se giù ci stai Ben o male a fare video Su è impossibile Comunque L'isola di fuoco Spostandolo ora Lo metto da parte E ragazzi È un gioco da paura Però Io ci vedo Un lato negativo Che poi Negativo fino a un certo punto Basta avere un pochino più D'accortezza Chiunque di voi abbia comprato Un gioco da tavolo Sapete che I materiali all'interno Sono fragili Soprattutto Vi potrei fare un esempio Quelli della Prodos Games Che fanno miniature Tipo Alien Contro Predator Prettamente di Di resina Sono molto facili Da romper Se qui non ce n'è L'avete visto È tutta roba di plastica Non troppo resistente Comunque roba di resina Non ce n'è Il discorso è che La confezione del gioco E soprattutto Le tre parti Dell'isola Componibili Sono troppo fragili Ragazzi Sono veramente Fragilissime E la scatola E la scatola rischia Di rompersi Veramente con poco Questo è un gioco Che non potete Avvicinare ai ragazzini Perché magari Un bambino piccolino Di 4-5 anni A parte Facciamo più 5-6 Perché comunque Si il gioco è semplice Le vi tirà giù La pietrina Cose Però avete visto Che alla più viene Sono parti troppo piccole Che potrebbero essere ingerite Quindi già Quella assolutamente no Però più che altro Le palle di fuoco E i tizzoni Ce ne sono uno in più Nel caso Ne perdiate uno Ce ne avete comunque uno Non hanno messo uno di riserva Però i token dei tesori Sono contati E si potrebbe perdere facilmente Perdete un token Ve lo dovete ristampare Come di carta Perché poi L'avete visto Sono contati Li dovete usare Tutti e quanti 36 quanti sono E in più È molto fragile la confezione Questa ragazza È una confezione Che non scherzo Veramente Cioè Rischia di rompersi È veramente sottilissima Guardate già come si muove È veramente Fragile da morire Questo non è assolutamente Un gioco Da portare Dagli amici Da portare fuori di casa E c'è scritto anche sulla scatola Non lo dovete tenere Vicino a fonti di calore O come me Nel caso In un soppalco Dove ci sia veramente Troppo caldo Perché potrebbe deformare Scatola E contenuto Quindi un gioco ragazzi Forse No Non voglio esagerare Voglio dire la verità È il gioco più fragile È il gioco da tavolo Più fragile Che ho avuto fino ad oggi Prima era Alien Contro Predator Ora è questo Perché è veramente Ragazzi È fragilissimo Non è che Non lo dovete portare Dagli amici A giocare Però massima accortezza Perché qui veramente Anche sulla confezione Ci rovesciate un goccetto D'acqua sopra La spaccate in due E poi basta veramente Appoggiarsi con un pino Troppa forza Magari Senza nemmeno farla apposta Sul tabellone di gioco Sui tre pezzi dell'isola E le spezzate in due Ragazzi Più Veramente Gente sarà lamentata Di gli ubot E della cranio Che si rompeva A me è cascato due volte In terra Non si è rotto nulla Comunque Dovete starci Veramente Molto molto attenti Se devo dare un voto All'isola di fuoco Ovviamente un voto complessivo Come Remake Del progetto Ridisegno della grafica Dei colori Soprattutto anche Della contenutistica Dei pezzi che ci sono All'interno e tutto Questo veramente Ci rimanda indietro Agli anni 80 È uscito nell'86 Se non erro Se le devo dare un voto Li do Un 8 su 10 Però Li do Un 8 meno Dai mettiamola così Gli do Un 8 Che non lo faccio mai Di dare questi Vero Questi più Vabbè Dai basta 8 Le do Un 8 su 10 Che Però Ve l'ho detto Quel meno lì Che non gli ho dato Perché non mi piace mettere Già mettere i voti A metà Con un puntino Ok Però con un meno più Mi sembra essere tornati Nei tempi più brutti Della scuola Dammi 8 Cosa mi dai 8 meno 8 più Sul coso Dammi 8 Dammi 7 e mezzo Dammi 8 meno Mino 9 più più Dammi ve lo mi merito Solo che un gioco ragazzi Troppo fragile Occhio perché rischiate di Spenderci dei sordi Di comprarlo Di essere contenti Che vi arriva a casa E già il corriere A parte che Asmode ve lo manda a casa Imbottito da paura Quindi vi preoccupate Però già il corriere Se tira il pacco Le asca di mano Ci dà du zampate Per buttarvelo nel portone Di casa Perché magari Li fate fare tre piani Un l'andate a prendere il portone E lui è incazzato nero E chi ci ha da lavorare Si rompe veramente, si rompe che è Una bellezza, io ringrazio ancora una volta di cuore Asmode Italia per avermene fornito Una copia per la recensione, veramente ragazzi Apprezzatissimo e siamo arrivati Al punto direttamente col vostro PR di mandare una mail E due giorni dopo riceverla a casa, cioè non ricevo Nemmeno risposta, scherzo, la ricevo Si, però a volte è normale, magari impegnata E tutto quanto, non ricevo manco risposta E dopo due giorni arriva al corriere, mi so una faccia Chi è che mi porta qualcosa? Un mando in meno risposto L'Asmode e arriva il gioco, quindi Siete veramente grandissimi ragazzi E non vedo l'ora di conoscervi a Luca Comics O in qualche fiera, il pranzo lo offro io E ve l'ho già detto E grazie veramente di cuore, il gioco merita tanto E ragazzi, sia in sovrimpressione che in descrizione Trovate tutti quanti i nostri link Pagina Instagram, che è importantissima Di maledetti dadi, seguiteci perché lì Trovate tutte le informazioni sui board game che Riceviamo e recensiamo Casella postale, nel caso vogliate Mandarci un gioco da tavolo, un gioco di carte E un gioco di miniature in generale, un board game E noi sempre lo recensiremo e vi ringrazieremo Nostra pagina type Nel caso vogliate fare una piccola donazione E darci un piccolo supporto Per aiutarci, insomma, a portare avanti Questa nostra passione Che ci piacerebbe Si trasformasse in qualcosa di più Però per ora è una passione Basta e avanza così Quindi se ci volete dare una mano Sarà sempre ovviamente apprezzatissimo E ultimo, ma non meno importante Il link dove potete leggere Tutte le informazioni sul prodotto E nel caso anche ordinarlo E ringrazio ancora una volta di cuore Asmode Italia Per avercene fornito una copia per la recensione Ragazzi, occhio veramente che è fragilissimo E niente, un pochino d'accortezza E se ci dovete giocare con degli amici Presentarlo, magari amici della mia Della vostra età Trent'anni e su Per farli ritornare per una serata Negli anni Ottanta Magari mettete, non lo so Guardatevi Stranger Things E intanto fatevi una bella partita a questo Ma invitateli a casa vostra Mi raccomando Portatela al giro almeno possibile Già se vi dici da una botta Rischio di romperla, no? Se la mammazzo? Ok Ciao ragazzi, alla prossima Grazie a tutti